Anno nuovo, nuova Mi Band di Xiaomi, anzi Mi Smart Band di Xiaomi, questa è la Mi Smart Band 6 che è arrivata da qualche settimana anche in Italia ufficialmente, quindi la troverete veramente ovunque, ma vi ricordate quando la Mi Band non aveva neanche un LED o quando la Mi Band sulla parte superiore aveva tre LED di stato? Quanto tempo è passato? Oggi abbiamo finalmente una Smart Band full screen, fatemi fare le virgolette, ma però diciamo la definizione ci sta. Non perdetevi altre recensioni ma soprattutto non perdetevi altre notizie esclusive seguendoci sul canale Telegram, un nuovissimo canale Telegram che trovate nella descrizione qua sotto su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, i soliti consigli e adesso partiamo. Questa è la confezione della nuova Mi Band 6, vi faccio vedere cosa c'è all'interno, ovvero oltre al bracciale, questo che è il cavo di ricarica USB con il connettore magnetico, devo dire questi cavi sono sempre esageratamente corti, la volta in cui saranno abbastanza lunghe sarà sempre troppo tardi. Una nota, qui viene segnalata anche la possibilità di tracciare il ciclo mestruale, io nell'applicazione non ce l'ho probabilmente perché ho impostato che sono nuovo ma visto che altrimenti poi me lo sarei dimenticato ma l'ho visto qui sulla confezione, ve lo faccio notare. Vado a mostrarvi il bracciale qui al mio polso, ruotandolo si riaccende, si sgancia sempre con il solito attacco qui a bottone classico, le misure sono appena 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 diverse da quelle della Mi Band 5 ma sono così poco diverse che questa Mi Band 6 entra tranquillamente nei cinturini della Mi Band 5, se li avete potete continuare a usarli, potete comprare anche quelli della Mi Band 5 senza particolari problemi. A me non dispiace questo tipo di cinturino, è abbastanza economico, mi ricordo che con le prime versioni dopo che le si usava per un po' di mesi poteva diventare un po' lento, poteva sganciarsi con un po' di facilità in più, ecco però in quel caso lì alla fine uno ricompra uno di questi bracciali a 5 euro quanto costano e torna un po' come fosse nuovo. Ovviamente si può levare dal bracciale appunto come dicevamo per sostituirlo, non c'è comunque bisogno di farlo per caricarlo visto che c'è ecco qua il connettore magnetico qui sul retro e questo è positivo visto che comunque esistono ancora bracciali che vanno levati per poter essere ricaricati. Dal punto di vista hardware qua sotto abbiamo il sensore di battito cardiaco ma anche il pulso ossimetro quindi per calcolare l'ossigenazione del sangue, per il resto non abbiamo tasti fisici, devo dire che forse un tastino sul fianco sarebbe stato comodo ma va bene anche così, non c'è il GPS, non c'è l'NFC, non c'è il Wi-Fi, c'è il Bluetooth e praticamente basta, non c'è microfono, non c'è speaker. Ovviamente è una smart band molto semplice, l'unica cosa che forse saremmo potuti aspettarci e magari ci aspetteremo a questo punto dal settimo modello è la presenza del chip NFC, ecco forse è arrivato il momento di poterlo introdurre, ci sono band che costano 10 euro o meno che ce l'hanno, forse è arrivato anche il suo turno. Per tutto il resto NFC, speaker, microfono, stiamo ragionevolmente chiedendo troppo a un prodotto così compatto o almeno non è ancora il momento giusto. Quello che era sicuramente il momento giusto era il momento giusto per introdurre un display più ampio, come vedete adesso il display non è più rettangolare ma è stondato qui vicino alle estremità ed è diciamo quasi full screen, forse poteva esserlo ancora un filino di più, sì forse poteva essere ancora un filino di più. Guardate qua sotto forse un pochino si poteva fare ma va bene, questa è la grande novità della V-Band 6, ovvero un display da 1.56 pollici, quello precedente era da 1,1 pollici, sempre con tecnologia AMOLED 152x486 pixel, chiamiamolo borderless, con luminosità manuale purtroppo che io ho voluto aumentare, che io ho voluto aumentare perché personalmente ho trovato la prima regolazione che non era qui ma era qui, quella a 3 su 5 un po' basta, si può arrivare fino a 5 su 5. Con 4 su 5 all'esterno più o meno la vedo abbastanza bene sempre, però la luminosità massima è quella della 5, ecco forse questo è un altro punto che sul prossimo modello vorrei vedere migliorato, o forse questo è un punto che si poteva migliorare già da questo, dai diciamo anche così, ovvero magari introdurre luminosità automatica o introdurre un display a luminosità un pochino superiore. Non c'è un always on display ma si riattiva con il tocco, si riattiva con il movimento del polso ed è impermeabile fino a 5 atmosfere, il peso è di 12,8 grammi, è veramente leggerissimo, una volta messo al polso non lo sentirete più. Vado veloce sul software, vado veloce in realtà spero su tutto, potete mettere dei widget lateralmente che vi permettono di accedere a informazioni rapide, io per esempio ho messo qui come primo quello delle notifiche, altrimenti se mi perdevo una notifica poi devo andare nel menu, cercare la voce delle notifiche eccetera eccetera, quindi così ho recuperato. Sulle notifiche non ci sono grandi novità e anzi devo dire lo schermo più grande non è che cambi moltissimo la cosa perché comunque rimane molto stretto e quindi il testo è piccolo e si va un po' a strizzare. Come vedete anche i menu, questo è quello del non disturbare che a me è molto caro e devo dire che, lo vedete da voi, le scritte sono piccole e ovviamente essendo sviluppato in verticale molte opzioni scorrono, ma io mi domando, forse non si potevano mandare a capo queste scritte invece di farle scorrere, che a volte devo stare lì ad aspettare secondi per capire che cos'è quella voce. Questo è il repilogo giornaliero, ma insomma questi li ho impostati io, sono i widget che ho scelto io. Scorrendo invece nella direzione opposta, sia in alto che in basso, entriamo in un loop di applicazioni, ne vengono mostrate, ce ne stanno un paio all'interno del display, stato giornaliero, valore PAI, quindi il valore di attività fisica, ma non giornaliero, ma settimanale, quindi vi dà uno stato costante del vostro allenamento, non giorno per giorno, ma sul periodo, sul lungo periodo. Frequenza cardiaca, questa è l'ultima rilevazione che ha fatto prima che lo lemmeno levassi dal polso, potete fare anche rilevazione automatica, io l'ho messa ad ogni minuto, che è la velocità maggiore possibile. Rilevamento dell'SPO2, devo dire che è preciso, è abbastanza veloce, e anche sui dati giornalieri, quindi sui passi, l'ho trovato preciso. E l'ho trovato abbastanza preciso anche sul sonno, che qui però, come vedete, non c'è un'impostazione per andare a rivederne i dati. No, sì, forse sì, scusate, forse nello stato, mi pare, forse c'è qualcosa anche sul sonno, no, non c'è niente sul sonno, mi sbagliavo. Tutte regolazioni abbastanza precise. Diciamo che per una band economica ci sta assolutamente. Notifiche, allenamento. La novità dell'allenamento è che ci sono fino a 30 allenamenti diversi, di cui mi pare circa una metà siano delle novità. Potete ovviamente riordinarli e per alcuni potete andare sostanzialmente a impostare, per esempio, gli avvisi di frequenza cardiaca in base a quello che fate. Gli obiettivi, e questi devo dire che sono abbastanza standard, quindi non cambiano molto da sport a sport, in base allo sport che fate poi ci sono alcuni sport, non questo per esempio, che vi permettono di avere dei dati personalizzati, tipo, se non sbaglio, tipo il salto della corda, se non sbaglio, vediamo, vediamo se trovo qualcosa. Vabbè, alcuni hanno, vediamo, eh, vogatore, go, hanno delle voci personalizzate, bracciate, eccolo qua, fine, non è che ci sia, no, presa, eccolo qua, presa e rilascio, non ci sono però in questo caso, potete vedere anche nel vogatore, non ci sono delle voci personalizzate, quindi durata, consumo, calcolo, però non... No, ok, no, invece sì, ok, no, qualcosa c'era, scusate, però invece avevo guardato soltanto degli sport, ma non avevo provato, alcuni non l'avevo provati, vediamo, però tipo il salto della corda sono abbastanza convinto, eccolo, no, no, ok, ci sono delle voci personalizzate, scusate, anche negli obiettivi. Abbiamo poi la cronologia degli allenamenti, abbiamo poi il calcolo dello stress tutto il giorno, gli esercizi di respirazione, gli eventi del calendario, la sveglia, tra l'altro configurabile direttamente da qui, non c'è bisogno di passare all'applicazione sullo smartphone, il meteo, la musica, il controllo musicale, l'orologio globale, io forse avrei preferito che lo scorrimento fosse a blocchi, quindi tipo due app alla volta, perché a volte si scrolla troppo, a volte è troppo poco. Se vado in altro c'è fotocamera, che permette di scattare le foto sia da iPhone che da Android, cronometro timer, trovo il dispositivo silenzioso. Nelle impostazioni abbiamo la possibilità di modificare con uno dei quadranti preinstallati, la modalità non disturbare che io ho impostato in automatico, quando riconosce che stiamo dormendo lui va in modalità non disturbare, funziona, devo dire, abbastanza bene. Mi ricordavo peggio. Luminosità, blocco schermo, durata del timeout aiuto dello schermo e le altre voci, ora che scorrono, schermo attivo alla notifica, e l'ultima è un'opzione che ci permette di attivare questo, ovvero che quando tenete premuto sul quadrante lui va nel menu di modifica rapida, eccolo qua, in cui potete appunto scegliere fra quelli che avete già qua dentro. Qui, in alcuni quadranti come questo, potete anche scegliere cosa mostrare, se invece di mostrare le calorie volete qualcos'altro, potete mettere il pie, la batteria, i passi, la frequenza cardiaca per esempio, i passi, no, sono andato dall'altra parte. Insomma, potete scegliere fra tutte queste voci calorie, pie, vabbè, non è che siano moltissime, una volta che avete sei voci come qui, perché alla fine qui avete sei voci separatamente, più o meno riuscite a fare, a mostrare praticamente tutti i dati in contemporanea. Ci sono le notifiche di inattività, per le notifiche si sincronizzano, nel senso che se le cancellate da qui si cancellano dallo smartphone, e si vedono alcune emoji, ma non tutte. Vi faccio vedere però un po' di più dall'applicazione per lo smartphone. Questa è l'applicazione, ovviamente è Mi Fit, c'è il riepilogo della nostra salute nella parte iniziale, quindi passi, il valore pie, il livello di stress, ogni voce è cliccabile, quindi voi cliccate e vedete i dati per la giornata, potete scorrere ai dati della giornata precedente e anche andare a fare tap nei punti precisi della giornata per capire in che momento avete consumato, avete fatto tot passi, consumato tot calorie, eccetera, eccetera. Valore pie, che come vi ho detto è un valore settimanale, quindi aumenta o diminuisce in base al vostro esercizio settimanale, devo dire un buon indicatore, perché lui vi dice dovete stare sopra i 100 e quando scendete sotto lui vi esorta ovviamente a fare meglio. Livello di stress, vi dice appunto qual è il vostro livello di stress, anche qui per la giornata potete andare ovviamente al giorno precedente. Saturazione dell'ossigeno, che è una impostazione, in questo caso una regolazione manuale durante il giorno, dove ovviamente invece il rilevamento automatico viene fatto soltanto durante il sonno. Durante il sonno comunque non viene mostrato, ma viene mostrata una informazione generica che è qualità del respiro durante il sonno. Devo dire che mi ha sempre dato un punteggio altissimo, anche se in questo periodo io sto soffrendo di allergia e mi sembra molto strano di aver dormito respirando così fantasticamente, non mi sembra di aver dormito respirando così fantasticamente. Punteggio del sonno, comunque i dati rilevati sono abbastanza buoni, frequenza cardiaca tutto il giorno, in questo caso appunto rilevata ogni minuto, poi vedremo dalle impostazioni, punteggio del corpo e andando in i miei allenamenti potete vedere, andando nelle... no, torniamo alla pagina principale, prendiamo per esempio questa camminata, potete anche vedere il tracciato del GPS, che ovviamente verrà preso dallo smartphone, quindi la precisione del GPS in questo caso è quasi perfetta, perché? Perché la rilevazione viene fatta con il GPS dello smartphone, visto che il bracciale non è dotato. Ma scorrendo verso l'alto comunque ci sono... c'è un buon numero di informazioni, non è un prodotto per professionisti, ma c'è poco da dire, per quello che costa, la quantità di dati, anche come vengono mostrati, non è affatto male. Se andiamo invece su profilo e poi tappando sulla Mi Smart Band 6, potete andare a configurarla. In negozio, anche se non è la definizione giusta, perché non c'è niente in questo momento a pagamento, come sempre in realtà, potete installare delle nuove watch face, e ce ne sono veramente tante. Tra l'altro queste watch face fanno un buon uso della dimensione dello schermo, mostrandovi un bel numero di dati, quantomeno. Alcune sono anche animate, molte sono estremamente cartunose, estremamente giapponese, lo vedete, però c'è anche qualcosa di... no, sobrio non lo vorrei dire, perché di sobrio c'è veramente pochino, ma ci sono comunque anche delle belle watch face, queste science and technology non sono male, scorrendo comunque ne vedete tante, la maggior parte sono super fumettose. Notifiche pro memoria, ovviamente di chiamate in arrivo, potete rifiutarle o ignorarle, potete ovviamente configurare tutte le applicazioni, scegliere quale applicazione devono mandare notifiche, avvisi di sedentarietà, sms, notifiche degli obiettivi. La vibrazione potete scegliere addirittura su ciascuna applicazione come devi vibrare, questo devo dire che è un bel livello di personalizzazione, una cosa che mi stupisce appunto della Mi Band, che secondo me gli dà un vantaggio sulla concorrenza, è che è molto personalizzabile, come per esempio anche, se andiamo qui nelle impostazioni del bracciale, le impostazioni di accesso rapido, questo per esempio è come ho configurato le applicazioni di accesso rapido, sugli allenamenti potete scegliere quali allenamenti mostrare in prima funzione, potete scegliere di attivare la rilevazione automatica di alcuni sport e scegliere quali sport devono essere rilevati in automatico. Qui ci sono tutte le informazioni, tutte le impostazioni per quanto riguarda l'attività fisica, insomma potete veramente farlo a vostra immagine e somiglianza. Questo più o meno sono tutte le impostazioni, nelle impostazioni di lab c'è la possibilità di abilitare lo scatto appunto con della fotocamera tramite il tasto virtuale su Mi Smart Band 6 e questo è quanto. E quindi questa era Xiaomi Mi Smart Band 6, viene venduta in Italia a 49€, quindi lo stesso prezzo dell'anno scorso. Il prezzo ci sta, diciamo che con qualche promozione, 10€ meno magari, venduta insieme a qualche altro prodotto scontato, ecco quello forse sarebbe veramente un prezzo super accattivante in un mercato che come vi dicevo anche prima è più aggressivo e con una decina di euro in più per esempio vi portate a casa un prodotto con il GPS integrato. Funzionalità che secondo me manca, ma allo stesso tempo questa Smart Band 6 ha maturato una completezza dal punto di vista software che comunque la posiziona un pochino più alto rispetto alla concorrenza, soprattutto dal punto di vista della personalizzazione, ecco. Al netto di questo però bisogna dire appunto che la grande novità più o meno quest'anno è lo schermo più grande. Anche gli sport aggiuntivi non sono male, però secondo me quella è più una novità software che volendo magari si poteva introdurre anche sui modelli precedenti. Ecco, insomma, una giusta evoluzione. So che molti magari volevano l'NFC, ma in una Smart Band con un sistema proprietario è quasi impossibile che possa arrivare all'NFC per i pagamenti. Per il resto la solita buona Smart Band 6, la solita Smart Band che sostanzialmente si può consigliare a cuor leggero. Per questa recensione è tutto, grazie per averci seguito ancora una volta. Per supportarci ovviamente iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche. Grazie per averci seguito. Un saluto da Emanuele Cisotti per MobileWorld.it